E' mercoledì! Giornata collinetta, così lo dicono in molti, così speriamo in tanti. Sarà che la pioggia insomma non ci fa sopportare più di tanto la settimana, ma siamo ancora a mercoledì. E anche ieri, pensavo fosse già finita settimana, invece no. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state? D'asta, lasciamo da parte il pensiero che è solo mercoledì, anzi, facciamoci, appropriamoci del nostro pensiero che è già mercoledì. Comunque, allora, adesso noi si parte, come al solito, fino alle 9 qui, il nostro numero di Whatsapp al 331-78-535-555. Come sempre vi raccontiamo un po' quello che succede in città, quello che avviene durante la giornata, quello che è successo ieri con il tempo, è stato un disastro ieri, quindi adesso poi ve lo raccontiamo bene. Insomma, tutto sempre qui, appunto, qui su Crystal Radio, con il nostro numero di Whatsapp. Ve lo ripeto ancora una volta, 331-78-535-555. Scrivetemi, è già pronto qua ad accogliere le vostre condivisioni. Poi abbiamo degli ospiti, insomma, abbiamo veramente tanto, tanto, tanto e si continua così tutta la mattinata. Poi, ve lo ricordo, ormai, Cristian Radio è partita alla grande, siamo ormai nel mese di ottobre e il palinsesto è al completo, praticamente mancano pochissime sfumature verso la sera, ma insomma è quasi completo e dopo di noi ci sarà Brogio Curti e poi ci sono gli amici di K-Day, insomma, tanto, tanto, il piatto è ricco, ficcatefici... Com'è il piatto è ricco? Mi ci ficco, giusto, quindi è qua pronto per voi. Elvis Presley, The King, The King è qui su Cristian Radio, qui su Good Morning Milano alle 7 e 12 minuti di oggi mercoledì 9 ottobre e arrivano già i vostri whatsapp al 331-78-535-555. Grazie che vi siate svegliati insieme a noi, almeno voi, perché la nostra Beatrice, Costantina, non so se si è svegliata, due secondi fa, poco prima che partisse la canzone abbiamo visto a correre fuori dallo studio, non sapevamo dove fosse andata, aveva dimenticato l'ombrello in mezzo alla strada. Quindi vi dico solo questo, cioè, questo è il tenore della nostra redazione la mattina, non è facile forse effettivamente svegliarsi tutte le mattine alle 5, ma Beatrice c'è di peggio, c'è chi si sveglia alle 5 per andare in miniera, quindi ecco, tutto lo dico, va bene. Comunque, allora, grazie appunto ai vostri whatsapp, come ad esempio quello di Alberto che dice buongiorno Fabio, buongiorno redazione e buongiorno Cristallini, dopo la difficile giornata di ieri, oggi non può che andare meglio, effettivamente, come era, dai, poteva andare peggio, poteva piovere, diceva un famoso film, ecco, ieri è successo questo, le strade allagate non è solo un problema di tombini ostruiti, bravissimo Alberto, è vero, sono d'accordo con te, sono proprio costruite e riasfaltate male, è vero, con pendenze che non permettono del flusso delle acque, è spesso volentieri così, infatti, soprattutto in convitanza dei passaggi pedonali, è vero, perché basterebbe, come in molte parti del mondo, fare un leggero, perché poi qui il problema qual è? Che si fa a volte il dosso dove c'è l'attraversamento pedonale, ma si fanno delle montagne, cioè si prende le tre cime di Lavaredo, si dice, bello, le rifacciamo lo stesso skyline delle tre cime di Lavaredo in Corso San Gottardo? Ecco, no, non è così che bisogna fare, in molti parti del mondo, ma proprio quasi impercettibile, c'è un leggero salitino, un leggero dosso, un leggero rialzo, rialzo dove ci sono le strisce pedonali, per due motivi in realtà poi principali, uno con l'acqua, che quindi l'attraversamento pedonale rimane più asciutto rispetto al resto della strada. Il secondo è perché così facendo il pedone si alza e lo si vede anche meglio, oltretutto, soprattutto i bambini, soprattutto magari se sei in carrozzina, cioè riesci a essere un po' più sopraelevato, ma che veramente bastano pochissimi pochissimi centimetri. Aggiungo un'altra cosa, siamo arrivati secondo me al momento in cui dobbiamo fare i conti con una cosa, c'è troppo, troppo cemento, c'è troppo, troppo catrame, c'è troppa, poca terra che possa permeabilizzarsi e quindi succhiare l'acqua al di sotto, perché poi la falda acquifera si alza. Vi faccio un esempio anche banale personale. Non era mai successo in 50 anni, 60 anni, 70 anni di storia dello stabile in cui siamo con lo studio di Good Morning Milano. Bene, da qualche mese, quando piove forte, nel nostro scantinato, entra l'acqua dal pavimento. Nel senso che è sempre successo che entrava l'acqua. Entrava dalle scale, entrava dalle pariti perimetrali, entrava perché sopra c'era tanta acqua e quindi entrava di sotto così, andava giù, cascata sulle scale. E invece adesso, trabocca in un certo senso, abbiamo una fonte qui, abbiamo finalmente la fonte, la chiameremo fonte Good Morning Milano. Adesso magari la imbottigliamo e facciamo i soldi con l'acqua gasata. La gasiamo e facciamo l'acqua gasata di Good Morning Milano. Comunque no, viene sull'acqua. Perché? Perché la falda acquifera si sta alzando in alcune zone, tantissime zone. Perché abbiamo costruito, io non posso non pensare che perché abbiano costruito ben quattro palazzi qui intorno, per cui hanno dovuto impermeabilizzare alcune parti, perché quando fai le fondamenti impermeabilizzi, quando vai giù e fai il garage impermeabilizzi, e poi l'acqua, qualche parte, deve andare. Poi, per fortuna, non ci fa più di tanti danni, per fortuna. Però, insomma, e vedi anche Alberto, infatti, dice sì, troppo cemento, giusto. E le nove fermate M4 sono distese di cemento. È vero, perché poi, c'è di questo, non siamo neanche abituati a costruire senza il cemento, in un certo senso, ok? Non riusciamo a concepire una costruzione senza tutto quel cemento. Sarebbe invece, magari, la volta buona di pensare ad altre soluzioni. Peace by Peace, Farrell Williams. E pezzo a pezzo, ieri una città è andata sotto acqua tutta quanta, diciamocelo, no? Così, anzi, che titola, no? Come si dice? Sì, titola appunto il, come si chiama, Milano Today, che dice appunto, la pioggia manda sott'acqua a Milano. Questo è il titolo che trovate su Milano Today. Ieri c'è tutta una cronaca di quello che è successo ieri. Attivata appunto la vasca del Seveso, ieri, che comunque non ha, cioè, si è assortito dei risultati, non c'è stata la grande inondazione, ma comunque in alcune tombini sono saltate, alcune zone sono fitte sott'acqua. E soprattutto, invece, dall'altra parte, adesso il problema si sposta più verso il Lambro, che vede infatti Ponte Lambro allagato. Ieri Ponte Lambro si è allagato, fin dalle prime ore della giornata, quando appunto è scesa veramente tanta acqua. Pensate che su Milano ieri sono caduti circa 65-70 mm di pioggia in circa 17 ore. Mediamente, così dice Milano Today, nella metropoli Lombarda, nel mese di ottobre, ne cadono circa 120 mm, quindi più della metà solo nella giornata di ieri. Appunto, verso le due del pomeriggio, Palazzo Marino ha attivato le manovre per riempire la vasca di laminazione del Seveso, che, come ha fatto sapere l'assessore della sicurezza Marco Canelli, si è riempita per circa due terzi. Intorno alle tre, però, sono voluti intervenire i vigili del fuoco, invece, a Padreano Dugnano, perché proprio lungo il Seveso era caduta un'impalcatura nel Seveso, cioè anche lì già c'è il Seveso che fa quello che fa. Con la pioggia questa impalcatura è caduta nel Seveso, è caduta dentro, ha galleggiato fino a un certo punto dove ha trovato un ponte e si stava ostroendo il Seveso, quindi poteva essere davvero un disastro senza precedenti, in un certo senso. Invece sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno fatto un gran lavoro, ma in città, come dicevo, tanto, tanto disagio e tanta, tanta acqua, che ha anche portato alla deviazione di tantissimi mezzi pubblici. Ho qui una lista, e vi li leggo perché sono veramente tanti, per farvi capire l'entità di quello che è successo ieri. Ad esempio il tram 9 da Porta Genova saltava le fermate da stazione centrale a Porta Venezia, pensate, tutto quel pezzo lì, perché c'era un allagamento di uno scambio in via Vittorio Veneto all'angolo con l'Azzaretto. Il bus 42, anche lui è stato deviato, e saltava le fermate tra Cagranda e Suzzani e Istria, perché c'era un tratto di via Le Suzzani e via Le Cagranda che era chiusa al traffico da quant'acqua c'era. Il bus 45, anche quello, saltava le fermate tra Ungheria e Mecenate. Il bus 66, deviato in entrambe le direzioni, saltava le fermate tra via Ungheria e Milano-Cascina-Boscana. L'83, che non faceva servizio tra via Danzi e l'ospedale Maggiore, tra i paesi, pensate, è un ospedale, quindi c'era proprio un disagio anche per chi magari doveva ieri andare all'ospedale Maggiore. Il bus 88, in entrambe le direzioni, è stato deviato e saltava le fermate tra anch'esso via Le Ungheria e Mecenate e il capolina di Dinate, quindi scomodo anche per chi magari non poteva prendere la M4. Le soluzioni esistono, va benissimo, ci sono tantissime soluzioni a Milano per riuscire a trovare il modo giusto di girarsi. Però, c'è un però, nel senso che se io esco di casa convinto di fare una strada, ne faccio magari un pezzo, arrivo a metà e a quel punto poi non posso più andare avanti, beh, quello è un problema non da poco. E quindi adesso appunto, insomma, dobbiamo fare i conti con quello che è successo ieri. Oggi la situazione dovrebbe leggermente migliorare, anche se comunque sono previsti ancora rovesci nel pomeriggio, quindi non stiamo troppo così allegri, come dire. Portatevi l'ombrello, magari appunto non fate come ha fatto la nostra avviatrice che l'ha dimenticato fuori dal portone perché doveva citofonare per entrare. C'è il codice per entrare, non so perché, va bene, l'ha lasciato lì. Doveva entrare, si è liberata le mani per aprire il cancello ed è rimasto lì. Ringraziamo i nostri vicini del bar che l'hanno recuperato l'ombrello e adesso è tornato nelle mani di Beatrice. Voi che programmi avete per oggi? 331-78-53555. Questo è il nostro numero, il numero di Crystal Radio. A questo rispondiamo noi che siamo quelli di Good Morning Milano. Quindi se volete chiamate, scrivete e risponde. Good Morning Milano! Amore no, Adriano Celentano. Oh, Celentano, a proposito, Adriano, sei forte, sei grato. A proposito, a parte questo, alla fine ha risposto. Sapete la storia di Teoteoccoli che durante una puntata di Tintoria, il podcast famoso, ok, perfetto, ha detto, guarda, io e Adriano Celentano ci conosciamo benissimo, sono 40 anni che ci frequentiamo, tutto bene, tutto quanto, ma sono 5 anni che non risponde alle mie telefonate. Lo chiamo e non risponde. E quell'altro, alla fine, questa cosa potrebbe essere successa tanti mesi fa. Poi è tornata fuori qualche settimana fa, anzi, in questa settimana che è appena passata, perché in realtà Celentano ha risposto. No, non ha risposto al telefono di Teoccoli, che in realtà, ricordo Teo, se vuoi, 331-78-53-5555, non rispondiamo sempre, non c'è problema, guarda. Abbiamo gente deputata a rispondere al telefono di redazione, quindi ci mancherebbe. Siamo qua pronti a ricevere tutte le telefonate, Teo, se vuoi. Invece no, Adriano ha risposto, dice, no, ma io non ti rispondo perché ti voglio bene. Allora, vi giuro, andate a leggere le dichiarazioni di Celentano. Sono un no-sense alla Celentano, ma alla fine forse fanno capire che, insomma, molto rumore per nulla, forse, oppure, insomma, è molto bravo, e penso che sia anche questa forse la verità, Celentano a sviare l'attenzione quando si parla di altro e non magari semplicemente la sua musica. Si faceva anche riferimento al fatto che Celentano, dopo l'esperienza di Adrian, insomma, come dicono, ci si è rimasto un po' sotto, ecco così, no, si dice. Insomma, si è rimasto un po' abbacchiato e da lì abbia iniziato un po' un auto-isolamento in cui, appunto, è finito anche il buon Teo Teoccoli, che invece pubblicamente ha cercato di richiamarlo, soprattutto facendo leva su questi 40 anni di amicizia, di feste, di compleanno, perché avvengono durante l'epifania e allora ci si bella sempre nel periodo di festa, è quasi come una grande festa di chiusura delle festività natalizie. Insomma, andate a cercare, se volete su Google, tutte le loro dichiarazioni. Stai fatto comunque, beh, Celentano è vivo e lotta insieme a noi, come si dice in questi casi, va bene? Sì, come rovinare un pezzo fantastico come quello di De Gregori con Rimmel. E lo sapete, insomma, questa è l'ora del classicone, del quando vi faccio cantare, come infatti ormai è vizio e sono ben contento, che, ad esempio, Adriana ci scrive appunto Che bella come canto, non so, ci sono tante A e tante O, credo fosse questo il mood del messaggio, ma di fatto insomma cerchiamo di farvi cantare, di farvi spinsiratezza nella mattinata mentre andate verso il lavoro, mentre andate verso l'università, mentre guardate qualche fiume che vi è nato nella notte sotto casa, anzi un grande abbraccio a chi abita dalle parti di Ponte Lambo che davvero sappiamo essere in una condizione abbastanza pietosa e quindi insomma siamo con voi. Leggiamo invece da Corriere della Sera ma anche su Repubblica, cioè potete scegliere, se fosse un libro game a questo punto potreste scegliere da che parte andare, io faccio un po' la sintesi dei due articoli perché abbiamo parlato tanto tempo fa che il famoso Cinema Odeon chiudeva, via Baracca e Burattini si passa ad altro, in realtà vedete come sembra che invece non tutto il mal viene per nuocere, come si dice in questi casi, Corriere della Sera, Milano, la rinascente si allarga nell'ex Cinema Odeon con una beauty hall, ne avevamo bisogno, benissimo, ma, ma, attenzione, ma apriremo 5 nuove sale di proiezione e quindi taglio del nastro previsto per maggio 2027, l'investimento sarà di 40 milioni di euro ed assumeremo 600 addetti, non è poco le 600 persone che lavorano lì comunque, e quindi sembra appunto che rinascente ridaranno vita all'ex Cinema Odeon, inaugureranno a maggio 2027 il rinascente Odeon, tengono anche il nome, Beauty Hall, investimento complessivo pari a 40 milioni con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand che saranno presenti nello spazio per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di investimento totale, e lo spazio di oltre 3 mila metri quadrati sarà dedicato al mondo beauty con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover, giro d'affari credo che si sia tradotto in italiano, in questo caso è un turnover di circa 80 milioni di euro già dal primo anno di apertura, credo sia il giro d'affari, cioè perché il turnover non è quando metti dentro in campo uno ma poi lo tiri via perché c'è la Champions League, il turnover non è quando cambi ogni 3x2 gli addetti della sala, non so, il turnover si usa per qualsiasi cosa, abbiamo capito, anche se è una porta girevole, chiamatela turnover dovrì davanti se volete, tanto inglesismi ormai no? Comunque va bene, sembra proprio così, 600 addetti diceva giusto Corriere della Sera, Repubblica dice invece 350 assunzioni nel primo anno, quindi vabbè saranno 600 in tutto il tempo, molto probabilmente che si calcolano anche i contratti a tempo di una settimana e quindi vabbè, sono capace anche io di fare 600 contratti, no, 350 assunzioni nel primo anno, comunque sa di fatto che insomma un polo così importante come quello dell'odio in un cinema così importante che sembrava scomparire completamente la città, invece si riesce finalmente a salvare qualcosa, iniziano appunto i lavori a breve, pensate è chiuso il primo agosto 2023 e i lavori andranno avanti appunto fino a maggio 2027 quando dovremmo vederne l'apertura, staremo all'occhio per capire un po' come sarà questa Beauty Hall e queste 5 sale, chissà se faranno solo film che hanno a che fare con la Beauty Hall, insomma tutto il giorno va Chanel, il biopic su Chanel, poi va Il diavolo veste Prada, poi cos'altro possiamo mettere Can You Keep A Secret, poi cos'altro c'è, quei film lì non li conosco più di tanto, quelli presi dai romanzi di Sophie Kinsella, ecco quelli lì per intenderci. Anche se è una cabbio senti che è freddo, fino al collo, fino al collo, si fa che fa un freddo pazzesco in questi giorni, non ne siete accorti? Questi erano Marrakesh insieme a Fabi Fibra con Nella Macchina, molti di voi in questo momento ci ascoltano Nella Macchina, Neffa? No, no, è Marrakesh, ah con Neffa, scusa, Neffa, scusa giusto, giusto Beatrice, grazie, ho sbagliato a Fabi Fibra, invece voglio dire Marrakesh con Neffa nella macchina, chissà, magari Fabi Fibra era dall'altra macchina, non era lì, quindi non era lì che andava con loro, chissà invece chi c'è nella vostra macchina, sicuramente c'è la vostra voglia di andare al lavoro, sicuramente, sono sicuro, ma soprattutto c'è il freddo che sentite in questi giorni, chiunque sia passato di qui, chiunque mi abbia scritto un messaggio, chiunque proprio, l'ho incrociato lo sguardo anche solo per strada, mi ha fatto capire, qua si congela signora mia, sapesse quanto freddo fa a Milano in questi giorni, ebbene vi do la notizia che al via la stagione termica di Milano, no, non oggi, dal 15 ottobre, dal 15 ottobre si possono accendere gli scaldamenti, così ci dice Repubblica, ecco orari e limiti da rispettare, allora il massimo di temperatura consentita negli edifici residenziali sarà di 19 gradi, è così poco, fa freddo, c'ho freddo, sarà di 19 gradi più 2 di tolleranza, 21, comunque, un grado in meno rispetto ai minimi di legge, va bene, dopodiché vi assicuro, fate come ho fatto io, mettere il termostato fisso sui 19 gradi, vi assicuro che non fa freddo in casa, poi quando entrate in casa, se avete l'autonomo, ma anche se avete le valvole quelle lì, ormai del centrale si può fare, a quel punto magari aggiungete un grado, ma giusto così, non fatelo andare giù troppo, spegnete, di notte lo spengo, lo faccio scendere, no, si consuma di più, ma magari nelle prossime settimane parleremo con un esperto di questo che mi è venuto in mente in questo momento e che potremmo sentire. Comunque, cosa succede? Quindi dal 15 ottobre inizia la stagione termica, così si chiama, e andrà avanti fino al 15 aprile, va bene? Ok, si possono accendere, 19 gradi più 2 gradi di tolleranza, come vi dicevo, per gli edifici invece adibiti ad attività industriali, artigianali e simili, il limite è invece invariato a 18 gradi più 2, quindi parlo con la mia redazione, Beatrice, dobbiamo tenere 18, noi siamo attività ricreativa, non so, culturale, non so cosa siamo, però non siamo a casa mia, quindi neanche a casa tua, dobbiamo tenere 18, mi spiace, portati un scialle, va bene? Poi massimo massimo 13 ore di accensione dell'impianto di riscaldamento, invece delle 14 di legge, fino all'anno scorso comunque, comprese tra le ore 5 e le ore 23, ok? Quindi non si può, non potete accendere alle 4 del mattino. Se vi alzate per andare, eh, mi spiace, dovete alzarvi, ma io inizio il turno alle 5, mi devo alzare alle 3 e mezza, eh, mi spiace, c'è fai freddo, non so cosa dirti, eh, sono, qualcuno dovrà soffrire, sei tu quello che deve soffrire, hanno deciso così, qualcuno in questo mondo dovrà pur soffrire, ecco, quel qualcuno sei tu, mi spiace. Eh, quindi, riprendo, i caloriferi appunto saranno accesi dal 15 ottobre, gli amministratori di condominio dicono attenzione ai costi e all'impatto ambientale, quindi facciamo, ragioniamo molto bene, soprattutto perché appunto, io parlo facile, ho la mia caldaietta lì in casa, mi scalda i miei 4 locali con piscina, e non è vero, non è vero, no, ho la mia caldaietta che mi scalda i miei 2 locali, va bene, quando però c'hai le grandi centrali termiche, che così vengono chiamate, è un po' più complicato, c'è da chiamare il fochista, c'è da chiamare l'amministratore, c'è da chiamare tutto, e devi decidere poi bene gli orari e tutto, no, capire. Insomma, quindi, mi auguro che al 9 di ottobre abbiate già fatto la vostra riunione di condominio per decidere queste cose e che il vostro amministratore vi abbia già detto quello che succederà se non è così fate come fanno tutti che si incazzano col proprio amministratore di condominio lo cambiano, chiunque si è sempre arrabbiato e vuole cambiare amministratore invece poi alla fine sono tutti, sono sempre loro non è che potete andare chissà dove Taylor Swift Shared Off 7.51 minuti, mercoledì 9 ottobre questo è Good Morning Milano Taylor Swift, insomma sappiamo essere stata cos'è stata nominata la donna più influente del mondo, allora per parlare di questo appunto la nostra Beatrice ci ha fatto tutta una ricerca su l'internet in cui ci racconta un po' la storia, ma a questo punto visto che io mi piace sempre fare le cose senza pensarle prima Beatrice, vieni in studio dai metti fuori la camera 5 e vieni in studio a raccontarci che cosa ha fatto la buon Taylor Swift camera 5, bravissima, ascoltate le indicazioni di diretta, vediamo se la fa perfetto, vieni Beatrice qui dai veloce però non è che abbiamo tutto questo tipo da perdere cioè ti sei preparata quindi allora buongiorno Beatrice vicina al microfono metti sulle cuffie quella lì, bravissima allora buongiorno buongiorno, benvenuta allora vicina e parla bene come ti ho insegnato? con tutti i soldi che spendo per farti studiare? va bene, ok mi piace sempre di questa frase allora Bea perché abbiamo messo Taylor Swift e cosa dobbiamo dire di Taylor Swift? abbiamo messo Taylor Swift perché ultimamente anche al telegiornale hanno parlato del fatto che Forbes che è un giornale inglese, americano 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 poche notizie da temale americano l'ha messa al primo posto come cantante artista più ricca e influente del mondo donna artista più influente no, non è anche donna artista artista più influente del mondo no, no, donna donna chissà chi sarà l'uomo Jay-Z Anna e P. Diddy cattiva questa è cattiva Jay-Z ah, vedi ok, perfetto sotto di lei ci sono Rihanna, Selena Gomez e Madonna al quarto posto mamma mia Madonna no, no, non si può ah sì, in quel senso in senso di isclamazione no, Madonna ah no, pensavo eh, Madonna no, Madonna cantante eh no, sì, ho capito non tocca questo tasto che è il famoso appuntato in cui siamo finiti inerpicati su strade della Madonna appunto e poi siamo finiti male invece quarto posto per quella che infatti nell'immaginario della mia generazione è la top cioè la numero uno e invece è al quarto posto dietro anche Selena Gomez esatto cosa mi puoi dire su Selena Gomez? non so è un personaggio particolare perché nasce come attrice su Unichel Odeon su tutti questi programmi per ragazzi tipo Violetta quelle robe li faceva sì poi sfonda nella musica perché comunque sempre cantato anche in questi programmi poi è stata con Justin Bieber un po' di gossip di questo tipo che l'hanno resa ancora un po' più famosa e poi ha avuto anche una malattia lei soffre di lupus che lo si chiami e quindi ha una fanbase abbastanza solida secondo me per quello molto unita che adesso potete trovare anche nel cast di Only Martyrs in the Building bellissima serie a parte questa stagione finale che sono la stagione di quest'anno non lo so non l'ho ancora finita perché sta uscendo settimana in settimana ma sta diventando un po' pesante ve lo dico la verità non so Disney attenzione sulle ultime stagioni sia The Beer che Only Martyrs in the Building vabbè poi The Beer potremmo parlarne perché secondo me tu la difendi l'ultima stagione io la difendo perché sono un amante di The Beer e secondo me non di Alan White di Jeremy Alan White anche ma non è importante non è importante i suoi addominali la serie no nella stagione non si vede non lo sessualizzano non lo sessualizzano non tanto quanto soprattutto nello spot di Calvin Klein leggermente lì mi sento in imbarazio per lui ma immagina essere in quello spot e loro ti dicono cosa ti dicono fai il sexy fai il sexy buttati l'acqua addosso fai il film di non saper bere bagnati cioè cosa ti dicono tutto quello che hai imparato buttalo via fai il film di non saper bere potrebbe essere questo che gli chiedono va bene va bene grazie Taylor Swift la donna artista più influente nel mondo pensate a quello che Forbes ha detto appunto raggiungendo pensate 68 settimane nella Billboard 200 è stata praticamente ha battuto anche Elvis Presley chissà se batterai mai questa che sentiamo adesso invece di quello di no Heart with a Fire con Magnetic questo è la Crystal History delle 8 ben ritrovati bentornati qui su Good Morning Milano sempre in diretta fino alle 9 su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus poi lo sapete c'è anche l'applicazione per iOS Android c'è anche il sito e se per caso dovete proprio abbandonarci in questo momento perché state per entrare in ufficio beh c'è anche il nostro sito di Good Morning Milano goodmorning.milano.it dove potete ritrovare e riascoltare tutti i pezzi che ci raccontiamo qui in trasmissione tutte le interviste ai nostri ospiti e anche appunto ovviamente il podcast poi su Spotify ed Apple Podcast diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi Mariana buongiorno adesso però una volta era Mariana del covo della ladra si può dire ancora così Mariana? il covo sì si può ancora definire così perché il covo si trasforma ma rimane resta è solo che cambia come tutte le cose cambiano bene grazie mille allora buongiorno anche a te grazie di essere qui con noi vabbè del covo ne abbiamo parlato spesso e volentieri se ne parla tanto e continueremo con fortuna a parlarne allora meno male il covo della ladra era una lo è ancora fino a dicembre 2024 ok allora è una libreria in zona via Padova giusto via Scutari via Scutari via Scutari attraverso un bel paese Scutari se potete andarci sono stati in Albania l'anno scorso in vacanza comunque famosa perché insomma sono anni che lottate insieme a noi come si dice in questi casi assolutamente diciamo che noi abbiamo aperto il covo ormai sette anni fa infatti il 25 di ottobre facciamo proprio sette anni di apertura sette anni fa in un quartiere dove le librerie non c'erano perché era dieci anni prima aveva chiuso l'ultimo presidio e quindi noi ci siamo detti vabbè io ci abito via Padova e quindi mi sono detta perché devo vivere in un posto in un quartiere senza librerie ho iniziato io subito dopo sono arrivate anche altre librerie come la Noi di Via delle Leghe Anarres di Via Crespo insomma adesso non siamo più solo non sono più da sola se così vogliamo dire siamo un po' tutti in difficoltà ma perché penso che sia in difficoltà il nostro settore quindi non è solamente una questione anche se qualcuno la vuol far passare così di stare al passo col mercato è proprio una questione di settore e anche di città che appunto io l'ho definita famelica qualche giorno fa però è vero perché è una città dove di eventi ne accadono tantissimi e quanto vuoi che possa incidere la presentazione di un libro in una piccola libreria di quartiere bisogna lavorarci tanto bisogna avere molta presenza e anche riuscirsi a costruire un'identità e una comunità di riferimento cosa che avete fatto tranquillamente no con difficoltà molto probabilmente con tanta fatica ma che avete fatto però in questi anni quindi appunto quel discorso del chiude perché nessuno viene a comprare i libri da voi regge fino a un certo punto cioè non sta in piedi no anche perché da noi i libri si sono sempre venduti e si continuano a vendere come sempre il problema non sono le vendite sono i costi di gestione i costi di affitto i costi di tasse di tutto che diventa sempre ogni anno un po' più complesso e poi non ci dobbiamo dimenticare che lo stesso costo del libro aumenta e invece le disponibilità delle famiglie spesso diminuiscono io non lo dico perché faccio strane ricerche di settore o che ne so vado a fare studi di economia e commercio lo testo semplicemente tra i nostri lettori e appunto le nostre famiglie perché noi siamo comunque una realtà che si rivolge alle famiglie del nostro quartiere abbiamo libri per bambini libri per adulti prima il sabato venivano e compravano quattro libri in una famiglia di quattro persone adesso vengono e ne comprano uno barra due e questo alla lunga fa la differenza ebbene si immagino ma e se qui potrebbe finire la notizia dicendo appunto addio al covo della ladra invece qui si aprono le belle notizie perché in realtà sono nascosto dietro una notizia che potrebbe appunto farci piangere e invece ce n'è un'altra che ci farà piangere di gioia ma non ce la dici subito cioè dici dopo la prossima canzone perché voglio proprio capire appunto insomma questo covo chiude ma in realtà la ladra rimane lì mi sa perché non va molto distante allora ne parliamo subito dopo la prossima canzone in Maroon 5 con This Love alle 8 e 15 minuti Crystal Radio Good Morning Milano con Mariana al covo della ladra Maroon 5 This Love 8 e 18 Crystal Radio sempre qui con Good Morning Milano sempre qui con Mariana del covo della ladra ma che appunto ci stanno dicendo che a fine anno quando è che chiudete 27 dicembre 27 dicembre mega festa mega party beh sì decisamente quindi prenotatevi per andare alla mega festa di chiusura del covo perché appunto poi in realtà si tira giù la serranda e dopo facciamo un countdown e si ritira su perché in realtà diciamo che viene davanti ciò che c'è stato fino ad oggi di dietro diciamo ok spiegala meglio tu hai detto proprio nel modo corretto è proprio così dal 15 di gennaio giorno più giorno meno adesso dobbiamo ancora definire un po' di cose contabili proprio cose burocratiche il covo della ladra diventa la libreria dei dobloni che è la nostra casa editrice che ormai è viva da un annetto e mezzo quasi due una casa editrice che è iniziata per scherzo però alle volte le cose per scherzo diventano proprio perché iniziano per scherzo diventano serie e quindi sta diventando molto seria molto seria tanto che ci ha richiesto e ci richiede sempre più attenzione sempre più impegno una distribuzione maggiore insomma cose un pochino più strutturali ed ecco allora perché dobbiamo salutare la ladra e il suo covo esatto perché in realtà il covo diventa ancora più covo perché diventa la redazione la libreria dei dobloni che sono appunto il nostro marchio editoriale chiamiamolo così casa editrice appunto no? che esiste ormai da un annetto e un poco più che che cosa edita però i dobloni cosa fanno? noi abbiamo iniziato due anni fa appunto con l'intento e anche qui sottolineo il fatto che i dobloni non nascono perché io e i miei collaboratori ci siamo detti ma sì dai non sappiamo cosa fare facciamo la casa editrice in realtà la casa editrice nasce proprio su richiesta dei nostri lettori ok hanno incominciato a chiederci dei titoli vintage quindi di gialli agé chiamiamoli così per non dire vecchi insomma dei gialli vintage che non si trovavano più sugli scaffali allora noi abbiamo fatto la nostra piccola indagine da libraie e ci siamo resi conto che molti autori come Augusto De Angelis Matilde Serau lentamente stavano scomparendo dalle nostre e anche immotivatamente stavano scomparendo dai nostri scaffali è vero che si pubblica tantissimo che gli autori contemporanei sono molti sono tanti sono prolifici scrivono tantissimo noi abbiamo avuto prova qua con Risolto Giallo veramente c'è passato una marea di scrittori che scrivono tantissimo a volte tornano perché in un anno hanno scritto già il secondo c'è una roba però noi ci siamo sempre in un certo senso freggiate del merito di andare a cercare le origini di tutti i gialli che noi oggi leggiamo e quindi ci siamo dette beh insomma stanno sparendo dagli scaffali riportiamoceli noi e quindi i dobloni nascono con solo una collana vintage però insomma non ci siamo fermati là infatti adesso quindi immagino tanti dobloni nel forziere da poter far finalmente vedere a tutti quanti rimarrà sempre questa connotazione del gialli oppure ormai andrete anche su altri lidi noi in questo momento abbiamo una collana dedicata al vintage quindi al giallo abbiamo una collana di narrativa contemporanea noir quindi non esattamente e solamente gialla e poi abbiamo una collana altre due collane un po' particolari una legata al recupero delle fiabe nella loro prima diciamo stesura senza edulcorazioni senza censure ah ok che si chiama appunto le eclesidre perché giriamo le eclesidre e torniamo indietro nel tempo e poi i cartesiani e invece qui ci sono un pochino i cartesiani i cartesiani cosa fanno i cartesiani i cartesiani ci portano in una in rotte narrative diverse libri un po' scomodi libri che ci fanno riflettere sulla nostra contemporaneità sia partendo dal passato sia partendo dall'attuale bene quindi le novità saranno tante e le potete vedere tutte dal 15 gennaio appunto nella nuova libreria di Elbroni giusto? esatto che è sempre lì però nel senso non ci muoviamo sono stata lista lei cambiano l'insegna ma rimangono lì e rimangono sempre l'oranzi meglio Amy Winehouse Back to Black lo devo dire sempre quanto ci manchi Amy quanto ci manchi non ci mancherà invece Mariana perché è qua con noi e non ci mancherà il Codalana perché appunto abbiamo detto che quindi cambia ma cambia pelle ma rimane lì quindi siamo solo contenti prima Mariana hai detto una cosa che appunto avete i gialli ma poi avete i noir che differenza c'è tra il giallo e il noir? molto semplice nel giallo le cose si risolvono e i cattivi vengono messi in galera e invece nel noir non è sempre così anzi ah cioè quindi sto pensando ai soliti sospetti quelle cose lì sono più che molto in mente non mi dico neanche come finisce devo dire la verità ma poi nel senso che non è detto che non c'è l'assassino a trovare ecco quello e spesso non ci sono neanche le forze dell'ordine e le forze dell'ordine non sono proprio esattamente così impeccabili e integerrime alle volte insomma si scava un po' nella fanghiglia nel fondo più profondo per citare con un romanzo nel fondo più profondo nel fondo più profondo va bene che trovate certo comunque andate fino a dicembre c'è quindi andate usatela visto che c'è andiamo con un po' di musica ancora poi torniamo due consigli veloci sugli acquisti e poi siamo qua ancora insieme a Mariana a parlare di libri a parlare della libreria i dobloni che sta arrivando Zucchero con Vedo Nero e invece noi ci vediamo benissimo ci vediamo noir un po' un po' giallo e tutto quello che potete trovare nella libreria i dobloni allora adesso dacci un po' anche altre così spoilerci un po' cosa succederà in questa libreria dal 15 di gennaio più o meno più o meno no ma ufficialmente sarà il 15 di gennaio o poi magari già al 10 sei lì come si dice in questi casi esatto ho idea che tu dal 27 al 15 non vai da nessuna parte mi sa tanto mi sa proprio di sì beh avremo un po' di cose burocratiche da fare poi ci sono dei tempi tecnici diciamo di passaggio da una codice a te con l'altro ho imparato benissimo in questi mesi sto imparando tantissimo l'insegna quanto vi sta facendo no il cambio di insegna è semplice sì perché rimarrà quella in realtà ecco perché rimarrà quella ci sarà solo una vetrofania sulla vetrina adesso stiamo progettando insieme al nostro designer che è mio marito in realtà salutiamo il designer marito esatto stiamo progettando gli interni in modo tale che logicamente sia in grado di accogliere sia la redazione sia la libreria vera e propria però diciamo ho imparato una cosa nuova che nella casa editrice si chiama comunque redazione dentro ci sono diverse persone diverse funzioni diciamo si impara sempre qualcosa pensavo che la redazione fosse solo la nostra giornalista che invece no anche le case editrici hanno la redazione poi rimane la redazione anche per un altro semplice motivo perché tutta la nostra parte online i nostri canali di comunicazione i nostri podcast i nostri video su youtube i nostri appuntamenti con le recensioni quelle rimarranno sempre attive quindi sarà comunque un continuo aggiornarsi un continuo muoversi da questo punto di vista infatti chi in questo momento piange la morte della ladra in realtà non perderà comunque un presidio di cultura proprio dove andare a toccarla a sentirla a vederla giusto? esattamente anche perché noi abbiamo tutto il nostro spazio eventi cioè lo spazio che ad oggi ha accolto le nostre presentazioni e voglio precisare siamo piccoli piccoli siamo 20 metri quadri ma chi ci conosce chi ci frequenta sa che alle nostre spalle usciti sul retro del negozio abbiamo uno spazio eventi di quasi 100 metri quadri 180 metri quadri per cui insomma ricorda qualche caso in affitto 20 metri quadri con 80 metri quadri di balcone cioè quelle cose lì quelle cose sono a Milano noi non abbiamo il balcone però abbiamo un bellissimo spazio eventi un bellissimo salotto ah bel salotto esatto dove le persone possono sono accolte possono incontrare gli autori c'è il nostro gruppo di lettura il dito della luna che si rincontra ogni fine mese appunto nel nostro spazio eventi insomma accadono molte cose anche semplicemente stare lì per leggere queste cose non cambieranno nel senso che tutti gli eventi che facciamo adesso gli incontri per i bambini gli incontri per gli adulti continueremo a farli anche come case editrice e devo anche dire che come case editrice riusciremo a fare anche qualcosina di più nel senso che non saremo più legati alle logiche del presento il libro che sono sicura di vendere perché di base non è che proprio sarò connessa e sarò interessata a vendere il libro a me interesserà creare un momento di incontro tra i nostri lettori e il pubblico e il nostro quartiere e autori o gruppi di autori o panel insomma cose di questo tipo hai detto la parola magica quartiere quanto la storia del covo sarebbe potuta nascere in un altro quartiere o quanto invece solo in quel quartiere non te lo so dire nel senso che noi siamo fortemente radicati sul territorio anche perché abbiamo aperto sette anni fa con un crowdfunding e il nostro territorio ci ha aiutato ad aprire in questo modo il nostro territorio è un territorio che noi abbiamo accolto in tutte le sue difficoltà in tutti i suoi lati positivi perché è inutile raccontarcelo ci sono cose belle cose brutte come in tutti i quartieri di Milano è un territorio molto eterogeneo è un quartiere molto eterogeneo e cerchiamo di accogliere sempre qualsiasi cultura e tutte le culture abbiamo instaurato rapporti con associazioni con altri commercianti insomma siamo nati e anche in funzione di questo non saprei dire se questa formula poi può essere replicata in altri luoghi però sicuramente può essere replicato questo desiderio di aprirsi invece che di rimanere solo librai perché è facile dire so fare il mio lavoro so vendere i libri però in realtà il nostro lavoro non è solo vendere i libri l'avete capito alla fine cioè quella che è nata come una brutta notizia triste sui giornali soprattutto si è letta così in realtà non è quello è tutt'altro di questo voglio parlarne con te dopo la prossima canzone però insomma sui giornali sembrava come si dice murt e stromurt e invece e invece no i ladri non muoiono mai ecco e non sappiamo se questa è una minaccia o una speranza andiamo avanti Fra Quintale Marco Mengoni e Jamie Tates e allora questi sono Jamie Tates Marco Mengoni e Fra Quintale che ci fanno fatto il piacere di cantare va bene grazie mille vi ringrazio tanto va bene così Beatrice se li presento così ok lo sapete non è che devo apprezzare per forza tutto da contratto non devo apprezzare tutto quello che mandiamo in onda va bene lo dico invece apprezzo molto il lavoro che sta facendo Mariana perché davvero questa nuova veste del covo della ladra che diventerà rimarrà in realtà luogo di grande cultura luogo di eventi in quel quartiere ma anche appunto la casa editrice i Dobloni che insomma viene nel front space invece che nel backstage dicevo sui giornali la notizia ha girato tanto si è finita su Repubblica su Corriere su Milano Today chiunque parli di Milano ha parlato di te ma è qui con noi scusate questo flexo 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 un po' anch'io ecco in realtà però è passata solo la prima parte la notizia come ti sei spiegata questa cosa io immagino già i messaggi che ti sono arrivati proprio di condoglianze di cordoglio no se vuoi ci siamo ho già l'ossigeno pronto immagino cose del genere esattamente diciamo che da sabato c'è stata una specie di pletora di persone anche i nostri carissimi lettori anche chi lo sapeva già perché logicamente per qualcuno è stato un fulmine al cialsereno per altri invece che sono i nostri ladruncoli come li chiamiamo noi che sono i più affezionati che ci sono sempre che collaborano anche con le nostre attività loro lo sapevano già eppure tutti che mi dicevano ma quindi ma quindi per me è stato molto difficile gestire questa cosa un po' me l'aspettavo perché logicamente di quello che abbiamo scritto diciamo della lettera aperta che abbiamo fatto ai nostri lettori giustamente la notizia più importante era quella che noi abbiamo messo anche come prima cioè il fatto che il covo stia chiudendo di fatto così come lo abbiamo aperto e così come siamo stati abituati a conoscerlo dall'altro lato però mi è un po' spiaciuto che invece che cogliere i lati positivi di questa notizia si siano colti solo i lati negativi ma il sensazionalismo è arte è parte della comunicazione per cui va bene così avremo tempo e modo per far vedere cosa succederà veramente nel nostro piccolo spazio piccolo barra grande spazio e insomma per dialogare al massimo con chi veramente ci segue perché poi di questo si tratta chi ci segue lo sa è l'incontro soprattutto da quanto ho capito cioè voi qui siamo ci viviamo tutti ovviamente online voi siete su qualsiasi social ci siete siete molto attivi anche sui social ma la cosa interessante in realtà la vera parte bella interessante è tutta quella offline è tutta quella che facciamo dal vivo neanche forse proprio il libro in sé quando l'incontro a volte assolutamente infatti uno dei motivi per cui abbiamo deciso di portare la redazione quindi la casa editrice in strada su strada come se fosse effettivamente un negozio è anche perché non ci spiacerebbe che i nostri lettori e il nostro quartiere partecipassse veramente alla nostra vita ora non dico che li invitiamo alle nostre riunioni redazionali perché insomma diventerebbe un po' difficile mio cugino ha scritto un libro molto interessante Mariana ma vuoi leggere? mancano qualche H però so che siete bravi a metterle cioè il concetto di rischio è quello poi no però sicuramente il fatto di entrare un pochino più dentro i meccanismi conoscere in anteprima anche gli autori che pubblicheremo o anche semplicemente uno dei miei sogni è quello di fare le colazioni il sabato mattina ora le facciamo in libreria da gennaio piano piano ma noi cominceremo a farle in casa editrice quindi sarà un approccio diverso ma il risultato è il medesimo cioè lo stare insieme l'incontrarsi e come Grimaldello come punto d'incontro un libro tra noi e i lettori insomma e allora ancora una canzone poi torniamo a salutarci perché dobbiamo anche dare tutte le coordinate perché sì ci sono sui social ma adesso prendete carta e penna che ci segniamo tutto quanto su come seguire tutta questa evoluzione Being Like Dears Megan Trino e T-Pain alle 8.50 stiamo per chiudere ma prima dobbiamo sapere tutte le novità che ci saranno prossime avventure così in questo caso nel covo perché anche c'è una nuova pubblicazione di Dobloni poi giusto? esatto il 16 di ottobre usciamo con la teoria dello spillo un noir ambientato a Milano un noir cattivo sporco crudele che non è assolutamente politicamente corretto perché noi le cose politicamente corrette non ci piacciono ci annoiano esatto e dalle 19.30 sarà con noi anche il suo autore quindi un modo per conoscere Michele Brusati si chiama un modo per conoscere i Dobloni la nostra collana di vintage scusate di libri vivi nel senso di autori contemporanei che non è scontato quando si pubblica un libro effettivamente esatto di autori contemporanei e quindi insomma magari un invito anche per cominciare a bazzicare quello che sarà la casa editrice la casa editrice appunto poi si può seguire tutto quanto dove? avete un sito? avete dei social? siamo dovunque allora il sito ladradillibri.com quello della libreria rimarrà sempre attivo e diventerà fondamentalmente un magazine dedicato al mondo dei libri e della cultura editoriale poi i Dobloni li si trovano su covodelleladra.it non andiamo molto lontani sono quasi tutti uguali questi siti e poi ci trovate su youtube tiktok instagram facebook dovunque e soprattutto insomma li trovate e vi assicuro non è che c'è Mariana che fa i balletti su tiktok ma non perché sarebbe anche in grado è molto brava ma perché ci dimostra come in realtà tutti i social usati nella giusta maniera e per comunicare qualcosa che abbia un senso alla fine vanno bene quindi su tiktok puoi tranquillamente comunicare di libri parlare di casa editrice senza per forza doverti mettere a fare i balletti lo dico anche la mia redazione che continua a volermi a fare i balletti a me quindi almeno evitiamo questa cosa insomma è un uso privato di mezzo pubblico in questo caso Mariana grazie grazie a te grazie a voi grazie per questo spazio che avete concesso diciamo alla nostra realtà che si parla di libri non sono molto alla moda però insomma è sempre meglio continuare a parlarne insomma se torna il vinile il libro non morirà mai io dico sempre questo quindi speriamo sì 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 giusta speranza ed è anche appunto sono contento anche di avere un po' ribaltato la notizia che è uscita sui giornali insomma tutti a piangere tutti a già vedere i necrologi cose del genere e mamma mia mamma santissima invece no invece è una bella notizia è qualcosa anzi diciamo che è nato un figlio che adesso camminerà con le sue gambe esatto va all'università come si dice in questi casi quindi prende e va a fare il fuorisede quindi lascia mamma e va avanti quindi grazie Mariana complimenti per il lavoro salutaci tutta la tua squadra grazie mille sarà fatto e noi e noi e noi cosa facciamo beh lo sapete cosa facciamo quando ci avviciniamo alla fine della trasmissione non è che c'è qualcosa da fare non è che ci inventiamo chissà cosa c'è semplicemente da mandare la nostra sigla e quindi al nostro 3 1 2 3 anzi al nostro 1 come volete no dai sigla 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi mercoledì 9 ottobre di Good Morning Milano grazie a tutti per averci ascoltato ma non abbandonate la piattaforma come si dice in questi casi rimanete su Crystal Radio perché dopo di noi alle 9.05 dopo il giornale radio ci sarà Senti Questa con Ambrogio Curti andiamo a scoprire un po' tutta la musica internazionale nazionale tutto quello che si cela dietro le grandi canzoni o dietro le storie dei grandi cantanti alle 9.05 qui su Crystal Radio Ambrogio Curti con Senti Questa poi ve l'ho detto il palinsesto va avanti perché poi dopo Ambrogio Curti dopo Senti Questa ci sarà che idee insomma la giornata di Crystal Radio continua fino a tarda serata poi se non sbaglio martedì e macudì sono le giornate più piene abbiamo veramente una marea di programmi quindi non abbandonateci perché c'è tanta tanta roba tutto il giorno per voi qui su Crystal Radio se invece vi siete persi qualcosa di Good Morning Milano c'è il nostro sito goodmorning.milano.it trovate tutti gli estratti della nostra trasmissione trovate i link al podcast trovate i link ai nostri social insomma anche lì potete trovare e ritrovare tutto quello che facciamo qui tutte le mattine dalle 7.09 le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Mariana e qui Fabio Ranfi on the mic in regia alla nostra Ginevra la redazione ufficio programmazione producer tutto quello che volete la nostra Beatrice grazie mille a tutti a domani buona giornata ciao 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 Grazie a tutti.